Allora intanto non userei la parola deludente perché sta un'ottima partita dei ragazzi dopo un periodo negativo con il morale a terra e io sono arrivato appena, ho fatto soltanto tre allenamenti e sinceramente non è facile cambiare molto, cambiare quasi tutto e anche per me c'era il punto interrogativo della condizione fisica, cioè la squadra quello che potesse tenere nell'arco di 90 minuti cambiando soprattutto a parte il modulo di gioco ma anche la tipologia di gioco, quindi questo era un punto interrogativo si è fatto un pareggio e noi il secondo gol l'avevamo trovato, era anche valido, non c'è stato concesso quindi non per far problemi, ma solo per rispondere a lei quando dice si poteva trovare il secondo contropiede l'avevamo trovato e non c'è stato, diciamo, c'è stato ingiustamente annullato, però non per far problemi solo per sottolineare che si è fatta la partita che si doveva fare, si è pareggiato dopo che si è andato in vantaggio e questo magari è un pizzico di delusione a fine del primo tempo perché meritevamo di giurlo in vantaggio però ecco, considerato la prima partita, considerato che si è cambiato, ribaltato tutto il modo di pensare e di giocare io mi ritengo soddisfatto perché intanto recuperiamo un po' di fiducia e di autostima e soprattutto creiamo una strada, cioè diamo un'impronta che bisogna adesso coltivare, incrementare, eccetera però secondo me bisognava dare un'impronta a questa squadra e oggi secondo me l'impronta l'abbiamo data e poi una cosa, io ho visto, siamo stati molto solidi in fase difensiva, che è una squadra che era la peggiore difesa del camminato oggi noi la porta al Pescagna non abbiamo fatto vedere mai, soltanto su un tiro fuori alle macchine e quella misca in aria però bene così insomma, no no io non gioco mai sull'avversario, io ho giocato così perché ho visto il Trapani secondo me necessitava di cambiare, cioè di avere una maggiore copertura in centro al medio, sia in mezzo al campo che dietro poi Maeri era un po' la difficoltà nel trovare gli elementi giusti perché Stramberg è arrivato da poco, Grillo, insomma no cambio in modo di gioco, cioè mi ha lavorato in due giorni, in un anno e mezzo, anche io, sì però vi ho detto facciamo così ragazzi stai bravi a farlo, però non conto di dire quanto fare, però l'abbiamo fatto bene, adesso ci lavoreremo perché secondo me Moscavi era un quarto che tornava a fare il quinto, era una difesa quattro, un po' come posso dire asimmetrica sulla sinistra perché loro avevano Galano e avevo chiesto la marcatura e il raddoppio su Galano quindi avevo stretto Forneser per fare maggiore pressione sulla sinistra nostra con marcatura di Grillo e raddoppio di Scogna Miglio, è chiaro che Moscavi doveva fare il quarto che tornava a fare il quinto era un quinto mascherato, però l'hanno fatto bene i ragazzi hanno questa solidità e abbiamo fatto una buona partita ma io parlo con tutti e con nessuno perché a Nellatore non sono le parole secondo me che i giocatori vanno un po' dati fiducia, messi al posto giusto, a condizione di rendere il meglio al massimo poi lui Luperini ha fatto lo stesso anche Luperini, non ci dimenticano che ha corso per 90 minuti se c'è una partita secondo me ancora continuava a correre lui, quindi questi ragazzi qui hanno sempre dato equilibrio la squadra perché hanno accompagnato l'azione offensiva e hanno accorciato a coprire la difesa sono giovani, hanno gamba, sono giocatori che io so benissimo che in Serie B ci vogliono questo tipo di giocatori qui perché in Serie B in campionato fisico ci vuole corsa, ci vuole gamba, ci vogliono ragazzi che hanno queste caratteristiche quindi l'hanno fatto bene, forse hanno sentito la fiducia, di più io non gli ho detto insomma basta darlo oramai a titolare, è già l'esempio che dà, non c'è bisogno delle parole dobbiamo recuperare un po' di fiducia, un po' di autostima però se analizziamo che siamo venuti qui, abbiamo pareggiato e ci stanno andando in gol e usciamo con un pizzico di amaro in bocca vuol dire che abbiamo fatto bene bene abbiamo fatto di più quello che poi abbiamo raccolto però pazienza, per la prima partita diciamo che potrebbe andare peggio sulla carta, invece andava benissimo secondo me ecco, non sanno che vuol dire noi che abbiamo fatto la nostra partita non è che se tu ti butti all'attacco vinci le partite abbiamo creato le nostre opportunità sulle ripartenze e l'ho detto prima, bisognava avere un riferimento preciso sulla tenuta della squadra poi cercare di perderla quando c'è chi vince sarebbe un suicidio perché la medicina si prende, come si dice, per gradi se vuoi guarire non puoi subito fare, siamo iniziati a fare l'intervento chirurgico ascolta, io agli attaccanti chiedo di fare delle cose diverse da quelle che solitamente fa chiedo dei movimenti che ci vuole un po' di tempo per poterti metabolizzare però secondo me hanno le cattistiche per farlo e quando avranno capito bene come muoversi in campo sicuramente, poi ripeto, non ci hanno fatto bene queste due perché comunque hanno costo molto ma hanno costo sempre a fondo della porta siccome non si è mai smarrita nelle difficoltà anzi, ha tirato fuori l'orgoglio che in questi casi bisogna tirare fuori perché la posizione classifica va aggredita se la vuoi ribattare non può subire esatto, buon Natale a tutti la città è molto bella, mi sto trovando molto bene e spero di regalare loro la gratificazione del risultato per cui siamo arrivati